Ed ora parliamo di vini e di crisi economica, lo stato di salute del comparto vitivinicolo calabresi in un periodo non particolarmente favorevole. Il presente e soprattutto il futuro di un settore che da sempre traina la nostra economia. Lo facciamo con un produttore vitivinicolo del Cirotano, Raffaele Senatore. Buonasera e benvenuto. Buonasera. Lei è a capo con i suoi fratelli di un'azienda leader, la senatore Vini, che negli ultimi anni ha fatto incetta di premi alle varie manifestazioni. Il vino calabrese e in particolar modo il Cirot continua a mantenere intatto il suo brand e il suo fascino. Questo significa che gli effetti della crisi non hanno segnato la vostra produzione? No, la crisi si sente, la crisi morde e morde forte. Cioè nonostante la crisi si sconfigge lavorando, facendo le cose in maniera seria, producendo prodotti di qualità e perseverando quindi in questa opera di qualità. E poi, perché no, andando in giro, cercando di proporre il proprio prodotto, di proporre la propria terra, il proprio terroire, in qualche modo i risultati poi arrivano. E quindi la crisi viene sconfitta così. Ecco, a proposito, a quanto servono le vetrine delle grandi fiere nazionali ed internazionali? O è più efficace la promozione con gli enti e le comunità dei calabresi all'estero? Sappiamo che lei spesso va oltre confine per promuovere la sua casa vinicola. Ma intanto serve tutto. Sicuramente le grandi vetrine come Vinitere, come il Salotto del Gusto e tante altre manifestazioni enogastronomiche che ci sono in Italia e nel mondo servono tantissime. Approssimamente saremo come azienda Senatore Vini, saremo a Vinitari, poi a giugno andremo in Alta Badia nell'Al Salotto del Gusto e poi perseguiamo sempre perché non c'è dubbio, un buon prodotto, soprattutto se di qualità, va promosso in tutto il territorio nazionale ma anche nell'intero mondo. La vendemmia 2012, secondo gli esperti, è stata una delle migliori degli ultimi anni. Le condizioni climatiche hanno favorito un buon raccolto e una buona produzione di vini e così lo conferma? Assolutamente sì, non solo il 2012 ma anche il 2011. Sono state due annate straordinarie, molto buone, di grande qualità, con scarsa quantità, ma è chiaro che se da una parte il clima, il sole e tante altre cose ci aiutano, quello che deve aiutare anche a produrre una grande qualità è il produttore. E quindi l'enologhe con l'azienda può produrre sicuramente grandi prodotti. Quali novità dobbiamo aspettarci per il 2013? Ma intanto sicuramente insieme alla tradizione va perseguito il concetto dell'innovazione. La nostra è un'azienda che si innova continuamente e penso che anche quest'anno usciremo con un nuovo vino, magari che dedicheremo forse al Santo Padre, ma ovviamente questo è tutto da vedere, tutto al di là da venire, qualche conta è il passato. Grazie, grazie a Raffaele Senatore della Casa Vinicola Senatore di Ciro. Buon lavoro.